Nomine al comune di Pescara, c'è qualche polemica anche in questi giorni dopo quelle delle settimane passate per la nomina dell'assessore Veronica Teodoro, in queste ultime ore si è venuto a sapere di questa nomina di una ex modella, di una ex hostess al comune da parte del sindaco Alessantrini, insomma qual è la posizione vostra? Ma intanto diciamo che c'è un metodo forse che non doveva essere utilizzato, questo metodo di un avviso a cui hanno risposto 500 persone che si sono illuse pensando che il sindaco stesse cercando per il suo staff riferimenti legati a dei curricula, così non è stato, ovviamente il sindaco ha scelto persone di sua fiducia, aveva titolo per farlo, io su questo non lo contesto, però il metodo deve essere eseguito perché molto spesso la forma è sostanza, non possiamo parlare in un modo e agire in un altro, noi abbiamo sentito per anni un'opposizione che oggi è diventata maggioranza, che ha sempre tuonato sulla trasparenza, sulla legalità, sulla correttezza dei comportamenti e poi i primi atti sono assolutamente contrari rispetto alle parole che loro hanno adoperato per anni, quindi credo che bisogna ritrovare un modo di agire che la gente capisce, noi abbiamo sempre cercato di mettere in atto queste cose e ovviamente diciamo al sindaco non muoverti così perché stai sbagliando, perché avevi la possibilità di nominare persone di tua fiducia ma illudere 500 persone non lo dovevi fare.